Mentre Gesù parla nel Tempio viene interrotto da alcuni che gli riferiscono un tragico fatto di cronaca. Subito prima Gesù parlando alla folla aveva posto una domanda ironica ai suoi ascoltatori. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo come mai questo tempo non sapete valutarlo. Il problema oggi come allora è importante, vale a dire il discepolo deve essere capace di leggere la storia alla luce della presenza e dell'azione di Dio. L'incontro con Gesù, con la sua parola, rende capaci di uscire da quel torpore di chi ha portato a decidere domani il futuro. Oppure chi troppo ripiegato su se stesso è abituato a prendersi un tempo eccessivamente lungo per riflettere, non è mai capace di afferrare l'oggi, il tempo qualitativamente nuovo e liberante che l'incontro con il Signore porta. E questa diversità che si è compresa fa della parola di Cristo una parola attuale per la vita e non una parola morta che seppure sapiente risentirebbe di un tempo che è andato. Mentre Gesù ironizza con la folla e lascia la domanda aperta, viene portata la notizia di un evento luttuoso e sacrilego. Sono stati uccisi dai Romani dei Galilei che stavano compiendo un sacrificio. Gesù rincara la dose, ricordando un ulteriore episodio probabilmente già conosciuto, vale a dire in Gerusalemme il crollo della torre di Siloe ha ucciso 18 persone. Le notizie hanno certamente una rilevanza teologica sulla giustizia di Dio, tenuto conto che la disgrazia era intesa come una punizione divina per le colpe commesse. Come dunque comprendere la morte di questi, soprattutto di chi stava dimostrando una pietà religiosa? Domanda di fatto sottile, perché contiene in se stessa una delle domande centrali dell'animo umano. Perché il male, soprattutto il male ingiusto, cioè quello subito dai fragili o incolpevoli? La risposta di Gesù è chiara. La morte di quegli uomini non è da intendersi come punizione divina, ma certamente deve leggersi come la fragilità del tempo che ogni uomo ha per aderire alla presenza del regno, che in Cristo si fa vicino ad ogni uomo. Ancora una volta, Gesù non si lascia ingabbiare nel particolare di una questione, ma risponde consegnando elementi di lettura per una vita autentica, superando quella temporalità dei fatti. L'idea che troviamo nella risposta del Signore ci mostra come ogni uomo è peccatore. Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? e ogni uomo ha bisogno di conversione. Convertirsi non significa semplicemente migliorare le nostre azioni, quasi che la conversione sia semplicemente da intendersi moralmente, ma cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di approcciarci alla vita, di intenderla, ciò a motivo dell'aver accolto il regno di Dio che in Gesù si è fatto vicino. Ed è la parabola che segue, che pone in relazione la chiamata alla conversione, il tempo che viene dato per convertirsi. Luca sembra più interessato a renderci consapevoli che ci sarà un giudizio di Dio sul nostro essere convertiti più che sul contenuto di questa conversione. L'espressione giudizio di Dio sembra passata di moda, oppure è spesso mal interpretata da chi la enfatizza e porta l'altro a pensare che ormai è tardi per convertirsi, a chi all'estremo opposto ritiene che c'è sempre tempo a convertirsi perché Dio è paziente. Quindi da chi è portato a scoraggiarsi e quindi a non avere quasi un motivo per sperare e cambiare, a chi invece si illude di poter cambiare velocemente nel futuro. I fatti della storia, tra cui l'assurdità del male, devono farci leggere il tempo con gli occhi di Dio. E pertanto ricordarci che proprio perché quegli uomini non erano peggio o meglio di noi, il giudizio di Dio non è per alcuni, per gli altri, ma per tutti, a partire da noi. Capire questo significa comprendere che convertirsi non significa aggiustare la vita in qualche punto, ma ripensare globalmente al nostro modo di essere e di vivere. Questo per non trovarsi come il fico, immagine dell'Israele e di Dio, che non porta frutto. L'immagine è tratta dal profeta Geremia. I contemporanei di Gesù la intendevano solo rivolta a chi li aveva preceduti. Invece Gesù apre gli occhi a chi lo incontra per dire che è vero che Dio è paziente, ma la sua pazienza non è possibile programmarla. Il tempo della vita è il tempo della sua misericordia dell'attesa e non deve essere interpretato come assenza del giudizio. La quotidianità della vita, carita anche dei suoi aspetti drammatici, ci deve ricordare come il tempo è sempre qualcosa di decisivo, non perché breve, ma perché è carico di opportunità e di occasioni. Grazie.